ehi devo fare una nuova grafica per il mio sito e ma costa 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 sì ma devo fare solo un logo ma costa costa un sacco sta con mario ma che scassi sperina mi stai dicendo scusa ti sto consigliando lo studio costa di massimiliano e stefania fratello e sorella di cassina dei pecchi log immagini coordinate siti internet packaging e prodotti stile live lo studio costa lo studio costa costa ma se gli dite che vi mandiamo noi vi fanno lo sconto sta bene